Ciao ragazzi, buongiorno, spero che siate tutti bene e spero anche delle vostre famiglie. Non so se avete avuto tempo di ascoltare la video lezione di storia di ieri, spero che sia abbastanza chiara. Eventualmente potete sempre chiedere anche su Edmodo ulteriori spiegazioni perché quel periodo era veramente complicato. Questa sera la videoconferenza la dedichiamo esclusivamente alla presentazione dei vostri prodotti e delle vostre recensioni. Ho visto già qualche lavoro che mi è stato mandato in anteprima, direi che siete stati, almeno quello che ho visto, siete stati veramente bravi. Oggi la lezione è di geometria e volevo spiegarvi un pochino come fare a calcolare perimetro e aree delle figure che non sono tanto regolari, cioè che non sono quadrati, non sono rettangoli, non sono trapezzi, non sono parallelogrammi, cioè delle figure che abbiamo studiate. Non sono un po' strane, vediamole un po'. Allora, qui con GeoGebra vi ho disegnato dei poligoni e che a colpo d'occhio non è che riusciamo tanto a capire se sono quadrati, rettangoli, eccetera. Anzi, capiamo che non sono questi poligoni che abbiamo studiato. E come facciamo allora per calcolare il perimetro e l'aria soprattutto? Allora, beh, se guardiamo il poligono rosso, calcolare il perimetro, soprattutto se uso delle misure non convenzionali, cioè se conto i quadretti anziché usare i centimetri, i decimetri o i metri, è abbastanza semplice. Semplicemente conto da quanti quadretti è formato il contorno e il perimetro è calcolato. Anche se volessi usare i centimetri, in realtà io so che questo quadretto ha il lato di un centimetro, faccio in fretta comunque a calcolare il perimetro anche con la misura convenzionale dei centimetri. Se devo calcolare l'area, già vado un pochino più in crisi, perché per calcolare l'area io generalmente ho bisogno, come abbiamo imparato, abbiamo bisogno di base e altezza come minimo. Qui stabilire base e altezza diventa un po' complicato. Lo stesso per questo poligono giallo. Chiaramente il contorno, cioè la misura del contorno, il perimetro lo calcolo facilmente, con l'area già vado in crisi. Quindi lo stesso, questo poligono verde, è a maggior ragione il poligono azzurro. Allora, fin tanto che le figure sono messe così, diciamo che è più complicato calcolare l'area, ma comunque ce la faccio. Perché? Perché comunque vedo i quadretti, vedo i quadretti, l'occhio non mi inganna, questi sono tutti quadretti di un centimetro di lato, quindi questo quadretto è un centimetro quadrato di superficie, questo è un centimetro quadrato, questo è un centimetro quadrato e via così, e quindi posso facilmente intuire e calcolare che due, tre, quattro, cinque, sei, sette sono questo poligono irregolare, ha comunque una superficie di sette centimetri quadrati. Lo stesso per questo poligono. Per quello azzurro è già un pochino più complicato, perché se qui conto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci quadretti di un centimetro di lato, quindi dieci centimetri quadrati, qui ho dei mezzi quadretti, e quindi è un pochino più complicato calcolare l'aria. Ok, che cosa si può fare allora? Vediamo nella slide successiva. Ah, devo attivare i miei occhi e cercare, e questo è il trucco, e cercare di individuare all'interno di queste figure irregolari delle figure che io conosco. Per esempio, in questa figura un po' strana, questo poligono un po' strano, io con un segmento, ho fatto con GeoGebra, con un segmento, ho unito il vertice F al vertice C, e vedo subito, mi balza subito proprio all'occhio, che questo poligono in realtà è formato da due poligoni che io conosco, cioè da due trapezzi. Sono trapezzi scaleni, non hanno i lati uguali, e non hanno l'angolo retto, quindi sono due trapezzi scaleni. Non mi basta ancora aver capito che questa figura è composta da due trapezzi scaleni, è perché per calcolare l'area di questi due trapezzi, e quindi l'area di questo poligono, io ho bisogno dell'altezza, ok? Perché l'area del trapezio si calcola facendo la somma delle basi, moltiplicando per l'altezza e dividendo per due. Per cui cosa faccio? Con un altro segmento traccio una delle altezze, l'altezza del mio trapezio scaleno, e l'ho tracciata. A questo punto ho tutti gli elementi che mi servono per calcolare l'area di questi due trapezzi, che messi insieme costituiscono l'area di tutto il mio poligono irregolare, di questo grande poligono A, B, C, D, E, F, che è irregolare, ma che adesso so che è formato da due trapezzi, ok? Cosa faccio? Prendo le misure reali di questa figura, quindi misurerò questa base, misurerò con righello questa base, misurerò l'altezza con righello, e a questo punto io posso calcolare l'area di questo trapezio, che, neanche a farlo opposta, è identico, è congruente, è uguale a quello che sta sopra. E quindi io farò somma delle basi per altezza, e sono opposto, ho calcolato tutta l'area di questa figura. Perché non faccio diviso due? E perché i trapezzi sono due, dovrei fare diviso due, e poi moltiplicare per due, per calcolare l'area di tutta questa figura. Non mi conviene. Faccio somma delle basi per altezza, e ho già l'area di tutto questo poligono irregolare. Vediamo cosa ci suggerisce la slide successiva. Allora ci dice collegamento a GeoGebra. Allora cosa faccio? Esco dalla mia presentazione, vado ad aprire GeoGebra, che l'avevo già preparato. Ok. Ho aperto GeoGebra, e vediamo questo strano poligono. È un poligono, perché è delimitato da una spezzata chiusa, ma è irregolare. Io non lo riconosco come rettangolo, o come trapezze, eccetera. Cosa ve la mostro a fare questa figura? Per farvi vedere come i nostri occhi devono lavorare all'interno di questa figura, per riconoscere figure che io conosco, e di cui poi posso calcolare l'area, conoscendo le formule. Il perimetro è semplice, misuro tutti i lati di questa figura col mio righello, faccio la somma della misura dei lati, e ho il mio perimetro. Per l'area è meglio che io cerchi di riconoscere all'interno di questa figura appunto qualche figura conosciuta. Prendo quindi lo strumento segmento e provo a vedere se tracciando all'interno di questa figura dei segmenti riesco a riconoscere figure note. Allora, per esempio, se io traccio questo segmento e poi anche questo, già mi vedo due figure che riconosco, un triangolo, tra l'altro rettangolo, e un rettangolo. Se traccio poi un altro segmento qui, ottengo altre due figure conosciute, un altro rettangolo e un trapezio rettangolo. Vedete qua l'angolo retto. Che fortuna! Allora, ora ho due, tre, quattro figure che io conosco e di cui posso calcolare l'area, ok? Come? Prendendo le misure che mi servono. Quindi misurerò la base e questa altezza e calcolerò questa figura, l'area di questa figura. Poi, questo è un triangolo rettangolo, questo triangolino è rettangolo, quindi ho questa altezza e ho questa base. Prendo la misura di questa base, la misura di questa altezza, base per altezza diviso due e ho trovato l'area di questo rettangolino. Poi, con questo è un altro rettangolo, prendo la misura di questa base, prendo la misura di questa altezza, mi calcolo l'area, base per altezza. Di questo trapezio prenderò la misura di questa base, l'altezza è questa, perché cade perpendicolare sulla base, e quindi sommando le misure di questa base, minore, di questa base maggiore e misurando l'altezza, riuscirò anche a calcolare, meglio che misurare, a calcolare l'area di questo trapezio. Dopodiché, cosa devo fare? Dopo, se voglio, l'area totale di questa figura, dovrò fare l'area del trapezio, più l'area del rettangolo grande, più l'area del rettangolo piccolo, più l'area del triangolo piccolo. Ma per i più acuti, per quelli che hanno l'occhio da falco, avranno notato che io ho suddiviso in due rettangoli, ma in realtà questa figura potrebbe essere, anzi, non potrebbe, è un quadrato, e quindi potrei anche evitare di tracciare questo segmento. Traccerei soltanto questo segmentino e avrei un triangolo, un quadrato e un pizio. Quindi tre figure di calcolare l'area. Allora, sostanzialmente, devo dividere la mia figura in figure che riconosco utilizzando dei segmenti, prendere le misure che mi servono per calcolare l'area e poi, successivamente, applicando le regole, calcolo l'area. Adesso usciamo da GeoGebra e torniamo nella nostra presentazione. Quindi, abbasto GeoGebra e torniamo nella presentazione. Devo essere velocissima perché mi sono dilungata in questa prima parte e i minuti sono passati veloci. Allora, andiamo nelle slide successive che vi mostrano sempre come posso suddividere dei poligoni. Sono tutti esempi di suddivisione dei poligoni. L'occhio mi deve, deve essere l'occhio da falco per riconoscere come suddividere i poligoni regolari. Guardate questo poligono A, E, D, C, B. Questa forma qua. Come è stato suddiviso? Ovviamente A, E, D, C, B così non riesco a calcolare l'area. Devo suddividere in poligoni più semplici. Allora, dal punto A sono state fatte partire due diagonali che hanno diviso la mia figura in tre triangoli. A questo punto, avendo tre triangoli io so come calcolare l'area dei triangoli o prenderò le misure che mi servono quindi questo è un triangolo rettangolo come questo come questo potete anche misurare proprio quel gognometro e ho l'altezza o la base o l'altezza o la base o la base o l'altezza prendo queste misure calcolo l'area di ogni triangolino sommo e ho l'area di tutta la mia figura. Andiamo avanti con l'altra slide questo è un altro poligono che è stato suddiviso in triangoli rettangoli e un rettangolo sempre utilizzando segmenti anche qui poi una volta che l'ho suddiviso ho visualizzato in quali poligoni posso suddividerlo prenderò le misure che mi servono quindi questa misura e questa questa misura e questa questa misura e questa questa e questa per calcolare le aree delle varie figure che lo compongono e poi sommo tutte le aree velocissimo questo è lo stesso ragionamento un po' di prima qui c'è l'esempio di un problema risolto di un problema di geometria in cui bisogna calcolare l'area di una figura composta un quadrato e un rettangolo scusate un quadrato e un triangolo qui ci sono le misure dovrò calcolare prima la superea del quadrato e poi quella del triangolo viceversa non cambia niente qui vi ho messo tutti i calcoli ve li guardate quindi l'area di questa figura che è una casetta devo necessariamente scomporla in due figure più semplici quindi quadrato e triangolo in modo che poi conoscendoli mi prendendo le misure io riesca a calcolare l'area andiamo avanti qui è il compito allora qui ve l'ho messo ma poi vi manderò il file word con le figure meglio disegnate saranno queste comunque e con le istruzioni per eseguire il compito avrete queste figure dovrete percare di capire in che figure più semplici le posso suddividere usando dei segmenti per dividerle per esempio qua per esempio qua e poi prendere le misure e calcolare l'area con questo io chiudo il video aspettatevi ovviamente come al solito la presentazione e il video e poi la scheda di compito ok quindi il compito sono una due tre quattro cinque sei figure di cui devo capire da che cosa sono composte prendere le misure e calcolare l'area in pratica sono sei piccoli problemi di geometria se non avete capito qualcosa stasera prima della videoconferenza mi chiedete ciao e buon lavoro e buon lavoro